I grandi romanzi, le fiction che raccontano i capolavori della letteratura classica A pranzo per il ciclo ritratti d'attore, una rassegna dedicata a 5 protagoniste della cinematografia italiana Nel pomeriggio, i volti, le storie, i personaggi che hanno caratterizzato la comicità negli anni 70 e 80 A seguire, Cosmopolita Il meglio del cinema internazionale Allora dell'aperitivo, l'azione e il divertimento sono assicurati con Supercar e AT Buona visione